ciao ragazze sono polina ferrari fotomodella e personal trainer mi sono diplomata all'accademia italiana personal trainer vorrei aiutarvi nell'esecuzione di alcuni esercizi oggi parliamo di abdominal crunch per prima cosa dobbiamo regolare il sedile si alza si abbassa in base all'altezza dopodiché mettiamo il peso comodo per noi non deve essere peso leggero ma neanche troppo pesante deve essere il peso giusto per poter eseguire 12 ripetizioni e alla fine sentirsi molto stanco una volta impostato il peso ci sediamo comodi appiccichiamo la schiena allo schienale appoggiamo i gomiti bene e cominciamo il movimento inspirare e arrotolare la colonna vertebrale cercando di avvicinare il più possibile lo sterno al pube espirare al termine del movimento dovete accompagnare e svolgere l'esercizio lentamente spero che vi sia stato utile se avete delle domande scriveteli qua sotto grazie a tutti grazie a tutti